94 indagati avrebbero beneficiato del reddito di cittadinanza per stranieri senza possedere requisiti necessari e grazie a false certificazioni. La Procura di Barcellona, a seguito della conclusione delle indagini preliminari e di una meticolosa inchiesta sulle sospette e indebite percezioni dell'emolumento a vantaggio di numerosi cittadini stranieri, ha fatto notificare 94 avvisi di conclusione delle indagini con le contestuali informazioni di garanzia ad altrettanti cittadini stranieri che non avrebbero avuto i requisiti previsti dalle norme per poter beneficiare delle provvidenze economiche erogate dall'Inps. Si tratta di 62 cittadini di nazionalità nigeriana, 7 algerini, 7 albanesi, 5 del Mali, 3 del Marocco, 3 tunisini, 2 senegalesi, 2 del Ghana, 1 egiziano, 1 del Sudan e 1 dell'Eritrea. A capo del presunto raggiro che ha portato all'erogazione di un importo complessivo pari ad oltre 298 mila euro vi sarebbe stato un 63enne tunisino residente a Barcellona. L'uomo attualmente è detenuto in carcere per analoghi raggiri in favore di immigrati poiché è coinvolto nel procedimento giudiziario relativo ai permessi di lavoro fatti rilasciare con artifici ad altri cittadini stranieri, anche in questo caso, privi dei requisiti della residenza sul territorio italiano.